Grazie Celeste Un applauso alla nostra Celeste Bravissima Brava Celeste Lamborghini Iodice e Cantarano Vai Peppinello Grande Peppino Vai Peppino Questo è gioco mio Assomigliamo dei miei colori preferiti Va bene In che senso posso scegliere il giallo Che assomiglia a uno dei miei colori preferiti Assomiglia Perché il mio colore preferito è il arancione Quindi anche il rosso No però il rosso è troppo focoso Vabbè prendete tutti i tuoi tavoli e fa arancione Va bene Io la amo Assomiglia a uno dei miei colori preferiti Va bene Allora lo scopo del gioco è Riuscire a spilare la tovaglia dal tavolo Facendo cadere possibilmente nulla Ma almeno Meno oggetti possibili È impossibile No non è impossibile Sembrerebbe così Lo facciamo uno per volta Io partirei da Cecilia In questo caso Va bene? Partiamo da Cecilia Allora Un colpo secco Ok Un colpo secco E poi contiamo Non si rompe niente? No Non si rompe nulla Ma io non credo di essere in grado Uno strappo secco Uno strappo secco Non male Non male Non male Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Brava Dieci e dieci Elettra Vabbè Elettra è proprio Amore mio Dato che questo tavolo Assomiglia al tuo colore preferito Mi raccomando Impegnati Tu apparecchi a casa Ti piace apparecchiare? Non so Come? Io sono Va bene Ho capito Ho capito Io ordino da sporto Perfetto Sì Bravo Lei ordina da sporto Quindi tutto quello che poi rimane Lo butti Perché è tutto biodegradabile Insomma packaging E io faccio anche la differenziata Sì Addirittura Incredibile 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 Che non sia mai che Ma non ci si crede maestro Maestro Un tappo Del latte finisca Scusa Nella Ma cosa Ma cosa Ma cosa Un tappo Aspetta Il tappo della plastica Il tappo della plastica Perché la plastica Ha un tappo Il tappo dell'aroe Il tappo del blanco Il tappo del blanco Del latte Non può finire Indifferenziata Certo Certo Deve finire Ma deve finire Nella No perché I cartoni vanno nella carta Certo Il tappo invece Il tappo va nella plastica Giusto Tutte sull'arissima Stefano Del Lucio Sulla differenziale di Elettra Il maestro si è accasciato Non si accasci Un attimo DJ per piacere Vorrei il rullo di Tammu Certo Signori Che record Stefano Sono anni di differenziata Sono anni di differenziata Mi confatta Perché Andiamo Elettra Lamborghini Porta Buon attimo Buon attimo Piano Piano Con i festeggiamenti Perché qui c'è ancora Un insospettabile Come te È un gioco Non ci vuole una particolare intelligenza Ho visto Cioè Ma In realtà Senza Pure istintivi C'è una cosa In realtà per partecipare a questo programma Non c'è Proprio come requisito Quello di essere brillante Te ringrazio molto Anche a voi E comunque Ci partecivo io Ma è un gioco Peppe Attento Oh L'ansia da prestazione Oh Oh Ehi 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 Guarda Guarda Arrivasse però Arrivasse però Arrivasse una cosa Arrivasse una cosa Direi che vince a mani basse Elettra Lamborghini Egli Grazie 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 Grazie